E' quell'altro lì che è tipo Gesù Cristo Per il potere di Grayskull Earthen Coliseum Arena litica Arena sono cazzi pelosi E questo vuoi mettere tutto l'ingegnere quanto mi riguarda Mi dovrei un po' vedere tutti la negra cosa Per la prossima volta Perché adesso quelli che uso per l'ingegnere C'era tutto speccato per... Stavo già la mezza Stesso ripenso a cae la Sraest Quante volte ci sono tornato Vorrei prendere tutto Basi da notte Sto facendo danni elettrici là in fondo Va su per le scale Mi piacciono le scale Cioè qua c'è Gabbo Ho tolato un Gabbo No però no Due... Due torrette Non ne hai due? Ma no Figurati Non fa una delusione allora Ma questo è questo? Ho spaccato due torrette Ho capito Eh perché due due cariche di queste? Quindi boh Ma per adesso sto con il medico dai Quasi una scala che va giù eh Qui c'è una placca Poi dopo me lo studio un po' E me lo metto Qui c'è una... Una porta chiusa Qui c'è della gente brutta Quasi da notte Non male che non faccio Che cazzo Ma ti fa un cofio la root qua? Eh c'è la root un po' ovunque eh Praticamente abbiamo stirpata Ma insomma Non so Ah tu non so se Non l'abbiamo ancora vista Ma praticamente Appario della root anche sulla terra eh In world Dico Continuo a dire Che l'ultimo direcino Non sarà più rude Ma sarà O da un'altra O da un'altra No ma Qualemente che Poi ne fanno un altro dopo i tre Perché tanto Gioca più totalmente bene Guarda che c'è una cosa rossa qui Beh ma l'han detto eh Ah si Gab tu non l'hai letto secondo me Ne stavo parlando io gli attori Mi sa e basta Ehm Gli hanno fatto una domanda Sul discord no Qualcosa del genere O reddit Ha detto Ma farete altri DLC Oltre i primi season pass Lui ha detto Molto probabile Ah ok Probabilmente arriva un altro season pass Ma l'ha detto Abbiamo venduto talmente bene Che è molto probabile Che faremo un altro Eh fan bene Lo tengo una giornata Fanno un DLC Una volta ogni quattro mesi Bella Comunque là Indietro c'era una Una scala eh Ok Dobbiamo andare a vederla Si Me la ricordo Era Là in fondo Full drift Ah si C'è una scala Per molti Appointing RPG All time Che cosa dice questo qua Yeah Che ha opinione di merda Ma come Planescape Torment Ma che cazzo dici Ma come Planescape Torment Hai peggiori Ma Ma probabilmente Giocato adesso Si perché E' un tipo E' un sottomarino Ma Ma più deludente Della storia Ma veramente Ma Planescape Che all'uscita Come scrittura Ancora clamoroso Qua Eccoci qua Ma aspetta che cazzo Questo What Non c'era questo prima Questa stanza Con i cerchi di luce What E' un po' E' un po' Aspetta che Ma qua si va giù Si va giù Ok Ma questa stanza Con i cerchi di luce Non c'era prima C'è un venuto qua io What the fuck Deve risalire Torment Ma cosa succede di sotto Brutta roba Bruttissima Mamma mia Quanta brutta roba No è lui È lui È lui È lui È lui Che deve arrivare La fine Se sta a cadere Fai tutto secrezia Qua dietro Guarda sono fuori Dalla mappa Ah si cazzo Mi ha tolto Guarda Cosa state facendo Sopra Aspetta che mi ha fatto Peverigna Dov'è Così mi aprite le stanze Da sopra Ah Ah Posso dire a Diffinissi o no Non lo so Perché sono caduto io Non so Su un disco Torre Non so se serve a qualcosa Ah qua c'è Vedo dei viola Qui sotto Che sono io Sopra mi aprite voi Le cose da sopra Qua sono su una mezzaluna Ma qua non fa niente Qua c'è l'acqua altissima Tra l'altro Bisogna capire Qual è la logica Per No bisogna capire Esatto Qual è il percorso Da sotto ho visto Due viola Che non posso raggiungere Tu come sei andato avanti Scusa Da sotto Ah Sei andato avanti Da giù Ma io sono sotto Capito Sopra Non so Mai stato Coduto giù Io Cercano di guardare in alto E capire come fare Per capire Dov'è che tiene Allora Allora Io ho capito Come fare I primi tre step Cosa Ah ma sono i fasi lunari Ah Sì Sopra sono le fasi Cioè Sono i vari Spicchi di luna I spicchi di luna Ah quindi devi andare in ordine Ah devi andare qua No ho sbagliato Ah perché voi modificate L'altezza dell'acqua Secondo me Con le fasi lunari Perché è cambiata Non lo so Però tipo qua Ma io posso arrampicarmi Se voi Sate l'acqua Non lo so Ma però dovrei Azzogarmi Andando sopra Non succede nulla Non è che premiamo E su una pressione Quei cose Provo dritto Si va se ho cosa a fare È giusto Devo arrivare in fondo Ok sono arrivato qua Sono in luna piena Eh son volato giù Ho capito Devi lasciarti cadere Ho capito Devo andare Devo lasciarsi cadere Nella stanza Con gli oggetti Sì è probabile Dimmi dov'è Che È là in fondo In teoria Ah allora forse Devo andare a sinistra Invece che dritto Ho capito Allora vediamo un po' Guidami Gabbo da sotto Arrivo No no Vengo su Ti faccio vedere da su È più facile Dio porco Allora Eh vabbè Vai tu Ah Va Dovete andare Qui a sinistra Qui a sinistra Sì qua di qua Devo andare Qua davanti a me Ho fatto Il progetto è No Allora io l'ho fatto Sono andato in una stanza Che c'è in marchio Del distruttore Questa gamba L'anellino Che è un anello Che dà La schivata perfetta Attiva uno scoppio Ciao torre E poi apro La scorciatoia Scorciatoia Oh Un omuletto E poi Gabbo Ha preso la pietra lunare Bravo Eh ci Secondo me qua c'è più cosa Da fare Sicuramente A pietra lunare Fa aumenta la velocità Di ricarica A ogni terza Di ricarica manuale Entrambi i rami Da fuoco Vengono ricaricati E danno a distanza Aumenta Del 15% Per 10 secondi Ok Oddi Ah ma io lo voglio Subito Questo anello qua Ok Io qua Sono caduto giù Che abbiamo preso Tutta la roba Mi verrebbe da dire di sì Però Non so se ci sono solo queste due Io ho preso Quell'altro anello Ma io ho preso Io praticamente Quello lì l'ho fatto Facendo il puzzle Sopra Cioè Ho fatto le fasi lunari E sono arrivato A quello lì Sopra Non mi sembra Ci sia altro E qua Invece Sono tutte le fasi lunari Ah forse sono quelle Da seguire Per il coso Banalmente Però le ho fatte a mano Sì Ho seguito Quella sequenza lì E sono arrivato A prendere L'oggetto Che vi ho detto Che si chiama L'anello Che hai preso Rick Marchio di distruttura Destroyer Però Però Insomma Beh Erano fasi lunari Quindi ci si arrivava Dai Fasi lunari Facciamo il bossettino No Il bossettino Poi buona Yes Dov'è Digamo Vedi Matteo non c'è ancora Scritto niente Quindi Matteo non scriverà E ne è in ritardo Ma no Perché non credo Che debba scrivere Il fatto che Ci sia Beh sì Sono a casa E' lui che era via Mica noi Ma è Matteo Se non gli dici Iscrivi Quando sei a casa Lui non scriverà Non ci arriva No Assolutamente no Anche perché abbiamo fatto Tutto sto casino Per orario Per dire Facciamo a quel orario Così siamo sicuri Che Mi siedo Sento dei rumori Orribili Da quella porta Sì sì Riposati Riposati Tipo C'è veramente Un'arena Dentro Dobbiamo Non so Perché siamo in due Che riposati Ah no Agambo era morto No Agambo forse Si è ucciso Per Velocizzare Qui def Eh esatto Preparatevi Eh sì Eh sì Ah Figa L'ho visto Questo qua Bello però Non l'ho visto Ma non è che Mi sono capitate Foto O cose Di quando Cercavo Le cose Per Ragasse Queste cose qua Oggi pomeriggio Un gladiatore Arrabbiato Sì sì Ma poi Non l'hai visto Niente Non sa quante Quante cose Ha Da Distant War X Ma Che c'è Deve Tappare Nei In Comoda Ha Attaccato Nei Eh Però Mi ha di vita Stamante Cazzo Perché sto andando Fu Monarch Quindi Era un filo Ok Vedi Nella squadra Dove Stassi Di nuova Non vedo Che Bacca Ma Non è anche il tempo Di schifare Adesso Mi stai Di scatto Gabbo Grazie Ma C'è male Che male Che male Ma C'è Io Sono rimasto Abbastanza Ma Scusami Molto No Cazzo Ah Ma Stato abbastanza Morto L'healer Tiro Tiro su io Vabbè Io C'è una Sì Tanto Avete Avete Anche Gli scudi Quindi Dove Strarci Sta facendo Cosa Oh Cazzo Oh Cazzo Dove c'è Il No No Ho Sbagliato 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 L'avevo visto Che spawnava Le statue C'è Il buco Tu devi mettere Nel buco Libero Però Non è Stata Abbastanza Sbagliato Che male Signore Altora Non si può neanche lamentare C'era con me Ma che ora Cazzo Ah Cazzo Dio Oh Cazzo Sera con me Tira su Gabbo è spazzato, si vede aiai, dove è? è vero a un chilometro cosa cazzo vuol dire questa? oh no intanto sta facendo sta cosa questi cosa vogliono fare? non porta, pittana che male no eh, non ho baggato ma non cazzo schiaccio il cine fa per entrare in alcune più non ci vada bene ma non cazzo vuol dire ma dove si va? è empatissimo ma dove si va? è empatissimo ah, è... e io me lo so come faccio fatia però e poi stai scelgando bene, no 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 oh Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vieni! 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 Merda sono a secco! Oh cazzo! E' un f***o! Vieni! Ma voi sono una patrini, cioè, cazzo, cazzo la vicca, eh! Anche a me mi ha fatto molto, molto male Tu guarda, ma io mi sembra di affrontare Mele Lui Vai Scusi Ehi, ma sai, perché la vuoi di risposta? No Mi ha Mi ha disgregato Alli Deve non essere ancora più Una mod C'è qualcosa di qua? Sì, c'è roba C'è l'arconte è bello P E poi che non sono nemmeno Turbo buildato Beh, è la nuova build Che mai sia la nuova build più forte del gioco al momento Ah sì La fai che va patta crit Da quello che ho capito C'è la fai che Ah, va patta crit? Che disabili Prendi l'anello Quello che disabili dai punti deboli Perché tanto con l'arconte non li puoi mai colpire Sì, sì E ti buffa un macello i critici E poi fai praticamente che ogni fulmine dell'arconte è crit Che vacca Al momento pare sia la build più rotta del gioco al momento Ah, poi io non lo sapevo più Beh, infatti non lo stavo buildando crit C'è a dire anche quello Cioè, perché è l'unico modo che ha Ciao 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 Ciao